Il terrorismo ha colpito di nuovo la Francia pochi giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali forse più delicate degli ultimi anni. L'attentato avvenuto venerdì a Parigi sugli Champs-Élysées, a pochi isolati dagli uffici del Presidente, ha dunque un valore simbolico, attaccare il cuore del paese. Se ci fermiamo a pensare, afferma Claude Moniquet, esperto di terrorismo, il processo elettorale è un obiettivo. Abbiamo sventato un attentato, ce n'è stato un altro, anche prima del primo turno. La settimana non è ancora finita e due turni si tengono a 15 giorni di distanza. Quindi in realtà è molto probabile che il terrorismo torni di nuovo nella campagna elettorale, e lo sperano tutti. Si spera che per il secondo turno la sicurezza sia al centro dei dibattiti. Curiosamente quest'attacco interviene in un momento in cui, a parte in alcuni ambienti, la questione del terrorismo non è stata abbastanza affrontata dai candidati durante la campagna. I candidati di sinistra non ne hanno quasi per niente parlato o lo hanno fatto molto poco. Ho quindi la sensazione che ciò incoraggerà coloro che hanno un programma incentrato sulla sicurezza, penso ad esempio ai candidati di destra, moderata o di estrema destra.